Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita ma va vangool ciao se sei arrivato a questo punto del mio video ti rimane solo una cosa da fare iscrivetevi al canale qui sopra se vuoi qui sotto ci sono altri miei due video che poi se vuoi andare a visionare e lascia un bel like e commenta anche questo video noi ci vediamo prossimamente ciao belli